ecco qui la gonna siccome abbiamo la cerniera sul fianco dobbiamo per forza tenere le cucine non possiamo unire le cuciture ma dobbiamo lasciare cioè non posso unire con la taglia e cucina questi due lati insieme ma devo fare separatamente perché a un certo punto devo mettere la cerniera quindi rifinite la gonna io di solito queste gonne svasate ho notato che se comincio a rifinirla da sotto cioè dall'orlo diciamo non mi fanno non diventano tutte ondulate se inizio da sopra diventano tutte ondulate ho notato questa cosa e quindi io sempre da sotto parto quindi un fianco lo chiudiamo tutto e l'altro chiudiamo una parte io di solito lascio circa 20 cm di apertura per la cerniera quindi con la cucitura dritta cominciamo con salda finiamo con salda a un centimetro una mezzo quello che avete messo di margine chiudiamo e apriamo le cuciture con il ferro da stiro adesso io faccio la arricciatura in vita perché io ho aggiunto l'arricciatura se avete aggiunto non lo faccio la fatte se no fate fate a meno quindi adesso io di solito all'inizio delle citture 3 4 anche 5 cm di al fianco perché non mi piace sempre meglio non vedere che la cittura che parte subito dal fianco perdone per bambine va anche bene perché un po in grossi fianchi secondo me quindi io parto con circa faccio la riciatura dopo la distribuisco sul corpetto a questo punto abbiamo la gona arricciata adesso bisogna chiudere il corpetto perché come vi ho detto io non ho l'abito portafoglio quindi prima mettere cento davanti con centro davanti nel caso mio ahimè siccome non ci stavo bene l'ho allargato un paio di centimetri quindi non mettendoci avanti con centro davanti ma rubando un paio di centimetri vedete quindi dovrebbe essere questo con questo invece l'ho spostato non andrebbe fatto ma sì siccome non ci entro l'ho fatto quindi ecco una piccola premessa ma si si può salvare 12 un centimetro e mezzo due massimo così se proprio non ci state però ecco bisognava ricalcolarli un po meglio sti vestiti ok o mettere margine più grande beh chiuso la parentesi adesso ritrovo centro davanti e cosa faccio adesso faccio parto a mettere con gli spilli la gonna l'apertura con l'apertura della gonna quindi dritto su dritto faccio coincidere centro davanti e centro dietro e il fianco la cucitura quindi tutto tutto con gli spilli prima ho imbastito il corpetto per farlo sta tutto fermo tutto attorno e anche qui nel centro davanti con centro davanti ecco qua quindi qui abbiamo rovescio della gonna quindi abbiamo dentro dritto con la gonna e dritto con il corpetto vedete ho distribuito dappertutto la reciatura adesso vado a prima io voglio prima imbastire quindi col punto lungo quindi se qualcosa non va bene posso scucire più in fretta un punto lungo vado unire gara gonna e il corpetto lo provo se tutto va bene passo punto corto e rifinisco con la taglia e cucci per quanto riguarda l'orlo della gonna queste cose quasi usate va fatto loro rotolato quindi allora fate una cucitura o piedino se non avete tagli cucci quindi più piccolo di un centimetro 0 5 0 7 tutto attorno e vi farà da guida ci sono video dove lo spiego meglio infatti ve lo linko perché adesso avendo una mano solo non esiste che riesca a fare qua ci sono due mani quindi io parto girando una e un'altra volta per quello si chiamava un rotolato riesco a farlo con una mano è tutto tono così pian piano lo faccio vi faccio vedere il video dove proprio lo faccio dove si vede che lo faccio dall'inizio alla fine importante non cercare di stirare e non cercare di mettere gli spili perché non perché le date matte prima a farlo man mano pian piano che si va avanti